Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 2 Remake Vi ricordo ragazzi che il vostro sostene con un hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Eccoci qua di ritorno signore e signori Io penso che quest'oggi non ci sia molto da dire perché la volta scorsa non è successo niente di particolarmente rilevante Se non per il fatto ragazzi che abbiamo continuato a girovagare per la città in cerca del pezzo di disco che mancava Dal jukebox quindi abbiamo trovato la chiave che ci ha aperto la porta del bar E nel frattempo abbiamo incontrato tanti altri mister lombri che ci hanno fatto anche un pochettino penare in effetti Abbiamo visto che possiamo anche ragazzi rompere alcune vetrine dei negozi presenti per la strada Questo è un elemento sicuramente molto interessante perché fa sì che l'esplorazione sia un pochettino più ampia In ogni caso l'ultima volta siamo arrivati ragazzi in un edificio nel quale potremo ritrovarci a stare per un po' Perché il carissimo Jamesy ha raccolto la mappa del palazzo e ci sono veramente tantissimi appartamenti Io penso che non li dovremo visitare tutti quanti ma sono comunque curiosa di vedere cosa succederà E quindi l'ultima volta ragazzi c'eravamo salutati qui dove c'è il carissimo foglietto per il salvataggio Non mi ricordo effettivamente se avevo raccolto qualcosina A parte i colpi per pistola ragazzi nient'altro di importante se non appunto la mappa degli appartamenti appunto di Woodside E questo biglietto che diceva ragazzi che si sono sentiti degli spari appunto provenire dall'appartamento 217 In ogni caso c'è qual quadra che non cosa non ho trovato nient'altro quindi adesso ragazzi non ci resterà che continuare appunto ad andare in giro e vedere che cosa ci attenderà di interessante di curioso Allora di sotto la porta era chiusa se non sbaglio questa porta è chiusa faccio sbattere il naso a Jamesy veramente tantissime volte Avevo guardato anche di qua questa porta anche chiusa Sì Jamesy sono d'accordo hai ragione quindi non ci resta ragazzi che cominciare a salire Attualmente appunto siamo al piano terra dove ragazzi gli accessi agli appartamenti sono un po' limitati In questa stanza c'è appunto il mobile delle monete Il mobile delle monete? Ah sì è vero ragazzi sì avevamo scoperto questo mobiletto nel quale dovremmo inserire tre monete C'è una specie di enigma che dovremmo risolvere quindi dobbiamo trovare tre monete con sopra incise se non sbaglio Un uomo una donna e non mi ricordo che altro Vabbè in ogni caso ragazzi non perdiamo Stavo dicendo non perdiamo tempo andiamo di sopra quasi quasi torno di sotto che dite Forse è un po' pochettino più carina la strada con i vari Mr. Lombri Eh? C'è qualcuno? Ehi la? Oh c'è una porta aperta in fondo al corridoio ma tu guarda un po' E c'è un punto interrogativo appunto ragazzi all'appartamento 217 Questo posto devo dire è maledettamente immenso Suppongo che gran parte degli appartamenti saranno chiusi ragazzi Qua serve una chiave Chiave che chissà dove Sarà C'è sicuramente qualcuno Sta da fan casino ragazzi Che sta succedendo lì? E tra l'altro qua si vede poco e niente Cioè ma proprio poco e niente Minchia il corridoio non era in fondo al corridoio Il corridoio continua ragazzi I manichini I manichini ragazzi sono un elemento che non mi mancava per niente Nei giochi horror Guardate che sono armata eh C'è una spranga Una spranga chiodata D'accordo? D'accordo? Non fate scherzetti della minchia per favore Nell'armadio a muro non c'è nessuno Sotto i teli Quanto odio ste cose ragazzi Ah Ah è la nostra torcia? Davvero? Io giusto mi stavo chiedendo ragazzi Se mai avremmo trovato una torcia Che bello Questa cosa si che mi piace Ah ce l'ha Puta che te pari Oh What the fuck Minchia Questo è il più aggressivo Rimesso l'ombrio Sbaglio Oh Mamma santa Allora Premiere 3 Per spegnere e accendere la torcia Grazie Per questo bellissimo regalo Mi devo per forza curare ragazzi Prendiamo la bevanda salutare Mi devo ricordare che con cerchio posso schivare Ok sto provando X come in God of War E qua che cosa abbiamo? Uh Una chiave Per che cosa? Chute Chute Eh Uguali a quelli che aveva visto tipo addosso a Mary Nella sua reminiscenza incredibile Vabbè Il fatto sta che a questo coso ragazzi dovremo trovare un nome Come ho trovato un nome a Mr. Lombri Sto coso è composto solo da gambe Lo potrei chiamare Leggy Da Legs Che dite? Non lo so Leggy Leggy Sembra il nome di un cane Mi piace Perché no? Uh Una bevanda salutare Ho recuperato giusto quella che ho usato un attimo Ma che meraviglia Allora il fatto di avere la torcia Non so se mi deve consolare o no In effetti Fatto sta Che tutto ciò Non mi piace Per niente Però io andrò Coraggiosa Coraggiosa più del solito Perché non voglio perdere troppo tempo Questa non è per qua vero ovviamente No Non è la chiave dell'appartamento 201 Quindi la chiave del cortile con scivolo Qual è il cortile con scivolo? Eh Il cortile sarà quello che E da poi al Parco Rosewater È possibile che sia così semplice Scusate Davvero davvero Mi state dicendo? Non è che magari va bene qua sta chiave No Boh nel dubbio No La provo ma Non va qui D'accordo Allora Cioè Potrei andare anche di sopra Che dite Andiamo anche di sopra? Non ci facciamo mancare assolutamente Ignonte Direi di sì Dai Visto che ci siamo Eh A questo punto Si può andare ancora più su Ah no è chiuso il terzo piano Noo E io che speravo tantissimo di andare a fare una capatina anche agli appartamenti del terzo piano Siete proprio dei cattivoni Ho raccolto altri proiettili ragazzi Sempre col contagocce Ovviamente Non ci vogliono rendere la vita troppo facile Qui a Silent Hill Ah? E quindi a parte Mr. Lombri Abbiamo incontrato Anche Il mostro Leggy Che bello C'è sempre una qualche novità qui a Silent Hill Allora Il punto è Qual è la porta di accesso al parco? E questa qui a sinistra? No No Qua non si può inserire alcuna chiave Forse una porta di accesso era da questa O questo ufficio Questa portineria No Noi tra l'altro dobbiamo trovare ancora le tre monete ragazzi Che sto a dire Ah Già mi son persa Parca paletta Magari Ci può aprire uno di sti cancelli Ah forse è per qua Ah Perfetto Ma dai Ce ne abbiamo anche qua dietro Sto rumore Lo sento eh Non pensate che io non stia sentendo questo fastidiosissimo rumore L'accesso qui ovviamente ragazzi è negato Completamente negato Vediamo se c'è qualcosa di utile qua intorno Ah qua possiamo salire davvero? Cioè Jamesy è capace di salire su una finestra del genere Ma non di scavalcare le staccionate o le transenne per strada D'accordo Jamesy Mi fiderò Cos'era? Ho sentito il rumore Ah dovrò spostare il cassonetto A giustamente chiedergli di arrampicarsi così in alto Sarebbe stato chiedere troppo Però io volevo guardare Prima di qua Qua la torcia non ci serve Ma non è che per caso la torcia si scarica No Cioè mi viene il dubbio Il dubbio a questo punto mi sorge Nel dubbio Quando non serve la spegnerò ragazzi Quindi adesso Spostiamo il cassonetto Jamesy Così possiamo salire Jamesy Yeah Perfetto Non vedevo l'ora di entrare dall'altra parte Sì sì La radio gracchia signori È gracchia E anche la musica Che dice? Non leggo una mazza Ah ecco perfetto Omicidio dei fratelli Locaine Il responsabile si suicida in prigione Walter Sullivan Responsabile di un recente caso di omicidio È stato trovato morto a una socella La mattina del 22 Secondo il comunicato della polizia La morte di Sullivan È stata causata dal dissanguamento Dovuto alla recisione della carotide Con un cucchiaio Con ficcato 5 centimetri nel collo Un cucchiaio Sullivan è stato arrestato il 18 di questo mese Per il brutale assassino di Billy e Miriam Locaine Un suo vecchio compagno di scuola di Pleasant River Al quale volte Sullivan non era Non è mai parso come qualcuno capace di uccidere bambini Ah quindi erano due bambini Afferma di aver visto Sullivan in preda a una forte paranoia Poco prima del suo arresto Il compagno di scuola ha dichiarato Farfogliava cose strane Come sta cercando di uccidermi Mi vuole punire il mostro Il diavolo rosso Perdonatemi L'ho fatto Ma non sono stato io Non ho stato io Il compagno ha poi aggiunto Ora che ci penso Era un po' pazzo Cioè così eh Giusto Giusto per Per Cioè Chiarire un pochettino le cose Cosa guardi Jamesy Qua dentro c'è qualcosa eh Perché guardi qua sopra Jamesy Se qua sopra non c'è una mazza Che guardi Mannaggetti Vabbè Perché la radiogracchia Legghi Legghi Sei là dentro Legghi Non me fate sorpresine Ne merda eh Please O c'è uno di quegli insetti schifosi Da spiaccicare Non lo so Vabbè Qua dentro Altri Quanti colpi Altri due colpi per pistola Qua non possiamo aprire Va bene Quindi c'è stato questo tizio Che ha ucciso due bambini Così in preda Al delirio Sembrerebbe Perché la radio Deve fa sto casino Se qua non c'è una stramazza Ah no lo sento Lo sento Lo sento Che che zampetta Dov'è Dov'è lo schifo Vabbè Qua possiamo entrare No E' chiusa Qua possiamo uscire Salve Buongiorno Buonasera Ormai non distingo più Ah eccolo Che schifo Ah ok Sempre con tutta la rabbia Che c'ha in corpo Jamesy Mi raccomando E noi impavidi Andremo in fondo A questo corridoio Impavidi Però ovviamente Camminando Molto lentamente Vero E' chiusa Dove sono Tra l'altro E' tutto Maledettamente chiuso Ragazzi Vediamo se Possiamo entrare In appartamento 109 Almeno ci permetterete Di entrare lì Ah è già aperto Qualcuno che ci aspetta Per caso Scusate Apriamo un po' Di cassetti Va Facciamo I ladruncoli Da strada Qua non c'è niente Qua non c'è niente Di qua c'è qualcosa Dateci almeno qualcosa Di Mannaggia la pupazza Mannaggia la pupazza Cattiva leghi Sei cattiva leghi Non l'avevo visto ragazzi Veramente Porca paletta Non l'avevo visto Ma accolto davvero Alla sprovvista Per la miseria Va bene Va bene Ok Cominciamo a cacciare I primi urla Mi pare giusto E sacrosanto Voglio dire Stiamo giocando Il remake Di Resident Evil Di Silent Hill Che facciamo Qualche urlo Non lo cacciamo Beh no Fatto sta che qua Non ho trovato Una stramazza ragazzi Neanche qua dentro Niente di utile A parte leghi Leghi che ci ha fatto La sorpresa Del secolo Vado Vado Sempre senza indugio 110 chiuso Procederò Cosa c'è qua Non c'è niente Va bene Va bene Va bene Questa si può aprire E qua cosa c'è Oh Oh una chiave Una chiave È saggio mettere la mano lì Minchia Jamesy Basta allungarsi un po' eh Ma perché non metti il braccio più davanti Scusa Ehi Ma che cavolo Jamesy sei uno stupido Uno stupido Cioè potevi mettere il braccio davanti Non cioè di traverso Mannaggia a te Sta bambina maleafica Che ce l'ha buttata via Perché Jamesy si stava sforzando così tanto Ah sono riuscita di qua E mo che faccio Scusate Ah devo fare il giro del corridoio Ma serio Posso perlomeno fare il giro del corridoio Da quel che dice la mappa Sembrerebbe di sì Bambina Fai bene a scappare Perché sappi che se ti trovo Ti do tante quelle sculacciate Che così impari a buttare via le chiavi Dalle mani delle persone Che stanno cercando di prenderle Capito? Ah adesso ho aperto la porta Ma qua c'ero entrata Ah no Evidentemente no Avevo lasciato questi colpi per pistola Due Sempre col contagocce E Ehi Chi c'è? C'è Leggy? Che mi aspetta Chi c'è? O uno di quegli insetti malefici Oh no 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 Non è musica da insetti malefici questa ragazzi Porta? Chiusa Palesemente chiusa Ehi Chi è? Sto cazzo Io corro A questo punto vado Scusa eh Girato l'angolo Prendiamo la chiave La chiave di che cosa? Del corridoio Al secondo piano Va bene Bambina Sei qua bambina? No Mi sa che è corsa via Da quel che avevo sentito prima Ansem Blumen What? Opus 82 numero 3 Robert Schumann Che ci dovrei fare io Con sta pagina di Dispartito? Niente Qua non c'è niente Di qua c'è qualcosa Spero che non ci sia Leggy Che mi fa Agguati Da sotto i tavoli Come prima Perché non è stato gradito Per niente Proprio Ma proprio per niente Neanche dietro le tende Della doccia Mi raccomando Che ormai Sti vecchi trucchi Li conosciamo tutti Ma che carino Pure l'altro Dovrebbe essere un coniglio Ma perché così triste? Dai Insieme al suo amico Eh Scusate Scusate Un'altra bevanda Salutare Adoro Altri coniglietti Vedete Quel coniglietto Era felice All'inizio Che è successo Dopo nel frattempo? Mangiato qualche bacca marcia C'eva una birrutanna di panza E' successo qualcosa Non lo so Fatto sta che abbiamo la chiave Ah Per il corridoio Al secondo piano E quale sarebbe? Probabilmente Quello Appena dopo le scale Suppongo Che è l'unico Che risulta Chiuso Dalla mappa Quindi vabbè Qua dentro Non c'è più niente Giusto? Giusto Adesso Rigiriamo l'angolo E Di regola Dovremmo poter salire Direttamente Salire Direttamente le scale Giusto? Sì Di regola sì In fondo a questo corridoio E Leghi Eccolo là Ah no Miss Lombi Puta madre Schiaccialo Schiaccialo Jamesy Puta madre Maledizione E non è finita qua Continua a gracchiare Che pallozze Mannaggia la miseria Amo pure Miss Lombi Non bastava laggi Giusto? Ah Allora Le scale Dove sono? Dritto di qua Cioè posso passare da qui No Questo è il cesso Devo passare dall'altra parte Semmai Ok Io quasi quasi andrei a salvare la partita Adesso ci sono E miracolosamente sono sopravvissuta Nonostante tutto Ok Gioco salvato Perfetto Adesso possiamo andare Quindi al secondo piano E aprire l'ennesimo corridoio Perché ci ricordiamo Che l'unico punto interrogativo È ancora Sull'appartamento 217 Quindi la chiave dovrebbe aprire Questa porta E giatto Ma lasciarle nella toppa No? Magari Suggerisco eh Oh Che io sia già passato di qua Impossibile Quindi Io faccio così Nel dubbio Maledizione Che non è mai abbastanza Vediamo Un pochettino Cosa possiamo fare Da queste parti Questa è chiusa Questa è chiusa Mi aspetta Qualche laggi Da queste parti Chiedo A titolo informativo Ovviamente Non perché io Mi stia tipo Cagando addosso Inesorabilmente Perché c'è tipo Una luce rossa Là in fondo What the fuck Appartamento Che? Ah questo porta Il 202 Quello che cavolo è Dove porta Sta porta Scusate E tra l'altro Io dovrei continuare Dritt Di qua Ma la porta È ovviamente Chiusa Quindi ci faranno fare Un giro Della miseria Leghi Ehi Leghi Eh si richiude la porta Leghi Minchia regà Con questa torcia Fa e non fa eh Io non vedo Quasi niente Vi dico la verità Sono entrata nel 213 Ok La musica Si fa particolarmente Interessante Devo dire Sì 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 Davvero interessante Cosa c'è qua? Eh? Che vuol dire? Che qua c'è tipo Ci ha strusciato qualcosa Sopra Che significa? Vabbè ma Perché sto dettaglio? Qua la porta è chiusa Vabbè Eh come non detto Facciamo finta Che ho capito A cosa si riferiva Questa inquadratura Sul muro Io davvero Dovrei passare di qua E andare di là Davvero davvero Beh sì Perché di regola Ci porta verso la zona Dell'appartamento 217 Che è quella che ci interessa Attualmente Giusto? Eh già Eh però fare un attimino Un giretto qua Nella zona cucina Eh Per vedere se c'è Qualcos'altro Di utile James si guarda qua sopra Però Non c'è assolutamente Niente Quindi Vado E' permesso? Qualcuno si offende Se vengo di qua No perché Cioè Sembra che chiunque Si offenda Se vado da una parte O dall'altra Questa cosa dice A causa delle ristrutturazioni In corso Gli inquilini sono pregati Di non accedere Al terzo piano Dell'edificio Cordiali saluti Ah ecco perché E' stato chiuso Peccato che Noi dovremo Trovare una chiave A quanto pare Che apre Questo lucchetto Ok la porta E' stata infatti Cerchiata Per ricordarci Che c'è comunque Un oggetto Che ci serve Lì Quindi questo è chiuso Dopodiché Questa è chiusa E La 216 è chiusa Eh eh Lo so Jamesy Uh è anche aperta E chi minchia è Che si porta un carrello Della spesa Fino a casa E tra l'altro Come ha fatto A portarlo fin qui No cioè Serio Qua sopra Niente Qua dentro Niente Oh oh Ah sì 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 Anzi Due colpi per pistoletta Ci fosse mai qualcosa Ah altri colpi per pistoletta Come va tutti sti colpi Per pistola Qua è tutto sfragnato Tutto distrutto Qua non c'è più una mazza Sì Adesso vediamo Cosa c'è nel carrello Altri colpi per pistola Qua possiamo aprire Sembra di no E qua dentro invece Ah Tieni premuto L2 Per prendere la mira Premi R2 Per sparare Come avevo immaginato Quindi Immagino E premi Quadrato Per ricaricare Immagino che in qualche modo Ce la vorrete far testare Suppongo La pistola Vero Ma non posso scegliere Cioè allora Per il corpo a corpo Io penso che James Forse automaticamente Tiri fuori la mazza E passatemi Il modo di dire Va bene Cioè io sono venuta Fino al 217 Per la pistola E tra l'altro Il tipo del 217 Vava pure detto Una bucia Perché aveva detto Di non avere armi da fuoco Complimenti Signore Complimenti Vabbè Dovremmo andare Ragazzi So Jamesy Ti capisco 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 L'agitazione Ma Dobbiamo andare Eh sì Dobbiamo ripassare Attraverso questo Squarcio Nel terrore Mi scusi È Mr. Lombri Che cazzo è Che minchia è Scusi eh Prendo la chiave Del 212 Se Non si offende Ma che cazzo Ho coperto da un telo Siamo sicuri di voler Guardare sotto Jamesy Davvero davvero Io lascerei stare Se fossi in te Anche perché Prima questa cosa Non c'era Quindi Eh Direi Più che saggia Recisione Possiamo Possiamo uscire E Abbiamo la chiave Dell'appartamento di fronte Perfetto Io vado È stato un piacere Grazie per l'aiuto Grazie davvero È chiusa Ma come è chiusa Scusa Da dove sono passata Prima Ah Ok Giustamente Dalla porta principale Non da un armadio Insomma Va bene Guardate che adesso Sono armato Eh E non ho paura E non ho paura Di usare l'arma Capito Ok Apriamo sto benedetto Appartamento Va Ti ho permesso Uh C'è una finestra C'è una finestra aperta Beh almeno cambia Un po' L'aria Là C'è qualcuno No Sembrerebbe di no Ah non vi dispiace Se frugo un pochettino Fra le vostre cose Vero Un'altra bevanda Salutare Di qua invece Cosa abbiamo Perché se entro in una camera da letto Deve iniziare a sentirsi il delirio Ehi Piano Jamesy Madonna santa Allora la finestra È aperta su quel Balcone E infatti dovremo uscire da lì Perché qua non c'è una mazza Quindi Io vado Eh Vado vado C'è la porta aperta su questo balcone Quindi possiamo accedere all'appartamento 210 Perfetto Ce li stiamo girando tutti ragazzi Così poi di regola Potremo avere accesso Sempre se la porta è aperta Anche all'altro lato del corridoio Scusate Tu puta madre Tu puta madre Ti vedo Leggi Ti vedo Anche Cioè Fai finta di mimetizzarti Lo so Ma ti vedo Io direi ragazzi Di non sprecare Troppi colpi per pistola Possibilmente So che qualcuno di voi Probabilmente Me l'avrebbe già detto Quindi Farò Cercherò perlomeno ragazzi Di usarli il meno possibile Anche perché Lo sapete che io con la mira Non è che vado Tanto bene Perfetto Ricarichiamo Va Ok E Di qua c'è qualcos'altro Una tv scassata Che dice Gli umili esordi della carriera Cioè i fogli buttati vicino al cestino Sette Dice sette Va bene I gurgli Li sento comunque Anche se fate finta di no Di regola posso uscire adesso Provare ad accedere Agli altri due appartamonti Vediamo Eccoci qua dall'altra parte Ah questo è stato proprio murato Cioè del tipo Chi t'ha visto T'ha visto Ehi Oh Ciao caro Mr. Lombri Scusa Però Ti spannaggia la pupazza E che f***a Eh No Senti Giù Non è mai abbastanza Ecco fatto Oh Perfetto Questo è chiusa Oh Povero Mr. Lombri Ho rimasto da solo Ho ucciso tuo frattolo O tua sorralla Tra l'altro queste sembrano più femmine ragazzi Dai tacchi che portano Ma Io li ho Soprannominati Già Mr. Non ci provare Non provare a fare quello che stai per fare No Giù Accidenti Ecco Adoro la rabbia ragazzi Che ci mette Jamesy Ok Ok allora Con calma Con calma recuperiamo un attimino di sangue freddo Cosa stavo facendo Prima che il nuovo Mr. Lombri Si avvicinasse Col suo fare Traballante Qua possiamo scendere Ma io volevo un attimino vedere Se riusciamo ad accedere Eh Continuo a sentire Rumori di sviscidio E cose simili Ce n'è uno qua dentro Di sicuro Sì Non chiudere la porta Accidenti Dov'è 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 Eeeh Maledizione Perché mi deve sempre far prendere Accidente Eccolo là Lo sapevo io Fai schifo Veramente Vergognati Vai giù Ammazza E che cazzo Ok Ammazza che grande Uh Welcome home Ma c'è anche un comitato di benvenuto Ma grazie Come siete carini Sono con Ah Puta Che teppanico Maledizione Vai giù Nella doccia Vai Così non sporchiamo Guarda Annaggia È rimasto un po' fuori Niente Niente Leggy e Mr. Lombry Si erano Giustamente accordati Per farci la sorpresa Del mese Ragazzi Però È andato tutto A quel paese Ok Allora qua la porta è aperta Ma io volevo un attimino Vedere C'è qualcosa Qua intorno Da poter raccogliere No No Regà Neanche una Di quelle monete Abbiamo trovato Fino ad ora Non vorrei dire Qua in cucina Niente Anzi Non ho aperto questo cassetto Uh Dei colpetti Per pistola È di qua Guarda dove siamo Entrati Va bene Vabbè Da sul balcone Principalmente E suppongo Che soltanto Così Potremmo entrare Nel 205 Perché magari Dal corridoio Non si può accedere Ah no È chiusa A meno che non è aperta La porta È chiusa Niente Dobbiamo vedere Se possiamo Entrare dal corridoio Ragazzi Quindi scusate Scusate per il disguido Ma Ma avete colto Talmente alla sorpresa Di sorpresa Che non Eh Cioè Capito Ho dato di matto Abbiate un attimo Di pazienza Pure voi Eh Allora Questa È chiusa La porta Aperta Spalancata Manco So chiusa Siamo nel Ah Nel 208 E quindi Non possiamo accedere Al 205 A meno che Non riusciamo ad entrare Nel 206 Ragazzi A uscire Dall'altra parte Del corridoio Allora Qua dentro Non c'è niente Qua in cucina Un panino Qualche salatino Una patatina Cioè Avete organizzato Un comitato Di benvenuto Non ci stanno Neanche i rustici Cioè Ragazzi Organizzatevi meglio La prossima volta Uh Questo armadio Si può sbloccare Probabilmente In qualche modo Ah Ecco Vedete Niente Hanno fatto marci tutto Ragazzi Cioè Vi devo insegnare Proprio tutto Però Che vergogna Che dice Questo foglietto Pensi che sia crudele Oggetto E dove lo trovo Sto oggetto Adesso dove vado Cosa faccio A meno che non scendo Per quelle scale Ragazzi Quelle scale Che mi sono lasciata Indietro Devo andare Qua a destra Ok Non la prima porta La seconda Quella che è dall'esterno Ehi Oh Salve 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 Scusci Scusci Non vorrei Ehi Non t'azzardare No 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 Un po' di vergogna Neanche un po' Vero? No Neanche un po' Continuo a friggere Che schifo Vabbè Scenderò Allora Anzi Salirò E salirò Ah Si può attivare Qualcosa qua C'è una leva Da abbassare Va bene Qua sopra suppongo Non ci sia niente Qua è tutto bloccato Che palles Io che pensavo Di aver trovato La strada Della vita Ragazzi Si l'ho trovata La strada Della vita Magari ci conduce Alla soluzione Del problema Attuale Cioè che sono bloccata Come una polla Questa Ah è aperta E questa dove ci riconduce Al primo piano Ok Di regola Qua a destra È tutto sbarrato Mentre di là A sinistra Ok Eh no Se si rifà Tutto il giro Un par de palle Bisognerebbe No Non penso che si possa Fare il giro Tra l'altro Ragazzi Qua So che devo andare fuori Eh Però volevo un attimino Prima vedere In che modo Si può fare il giro Da qui Ok Qua c'è l'appartamento 109 E poi niente Tutto bloccato Ragazzi Quindi vabbè Sì Non perdiamo Altro tempo Andiamo di qua Vediamo Ah ma qua Sono riuscita Allo stesso posto Di prima Ma che davvero E mo Eh E mo È un gran bel problema Ragazzi Perché non ho la minima idea Di cosa devo fare Ah Che ridere Vero C'è tanto da ridere Pensavo di nuovo Di aver trovato La strada Della mia vita E invece Allora Visto che sono qua Intanto salvo Che non si sa mai Chi c'è Oh Oh Ma che stai da fare Una festa Cos'è un raduno Cos'è successo qua Cioè serio Oddio E già ho sbagliato Ragazzi Vedete Perché non uso La pistola Vedete Manneggia La pupazza Tua sorella Vai giù Giù E ne ho visto Pure un altro Guarda che t'ho visto Eh Ho visto Continua ad andare avanti Il demente Uh Qua c'è una porta aperta Ma qua c'ero già entrata Probabilmente No Mi sa che qua Non c'ero proprio entrata Ragazzi Quindi me l'ho persa qualcosa Salve 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 Anche a lei Sempre un piacere Vedervi Eccolo là Lo sapevo Vai James Ecco fatto Risolto anche con lei A posto Qua non c'ero venuta Ragazzi Quindi Entriamo in questo appartamento Qua Il 102 Cioè non mi sembra Di esserci entrata Eh no Perché se no Avrei aperto già Questo cassettino E avrei aperto anche quest'altro Cassettino Dove non c'è una bene amata mazza Io spero che qui ci sia qualcosa Che ci dia una mano Ragazzi Uh Un'altra foto Valentine's Day Eh il giorno di San Valentino Ok Quattro L'altra aveva scritto sette sopra Non so se sono solo collezionabili O se c'è di mezzo qualche indizio Ok Un'altra bevanda Salutare Meraviglioso E di qua Di qua Di qua Una bene amata mazza Regà Manco qua Forse mi son persa qualcosa Ragazzi Da qualche parte Anche se Ho davvero guardato per bene Dappertutto eh Ah mi manca entrare Di regola nel 105 Ma È possibile che io non ci sia proprio arrivata Mi sembra strano Ok Allora qua c'è Già qualcuno che ci aspetta Ehi Eccolo là Tutte le volte la stessa storia Eh che cazzo Eh no basta Ma Già so due Ma porca miseria Oh Mannaggia Sono riuscita pure a farmi prendere in pieno Che schifo Ok ci tocca bere ragazzi Qua mi sa che non ho guardato più di tanto Cioè perlomeno mi è sfuggito qualcosa Niente questa porta è chiusa Quindi Eh ma non la segna proprio come è chiusa Quindi ci devo essere già passata qua davanti Eh non me l'aveva segnata Infatti Ah arrivare Agli appartamenti Nell'angolo in alto a sinistra Da qui non è possibile Perché è tutto chiuso Ah Per arrivarci da sopra Servirebbe una chiave ragazzi Sì Sopra pure mi è sfuggito qualcosa Eh Gli unici che non sono riuscita ragazzi Ad esplorare Sono quelli che sono Irraggiungibili Principalmente Al terzo piano non ci si può accedere Mi deve essere sfuggito qualcosa Fra il primo e il secondo piano Allora Vediamo un po' Al 308 Oh Anzi no Al 108 Non c'ero entrata? Come no? La porta è spalancata Ah sì Qua c'è l'armadio L'armadio famoso Aspetta What? Aspetta Qua non c'ero entrata Ma che è serio? Oh ragazzi Ecco la palla che ci serve La palla La palla Che ci serve Per l'altro armadio Che era quindi Porca miseria Qua regà Mi era proprio sfuggito Il 108 Quindi suppongo Che sia Al 208 Quindi potevo rifare Tutto il giro Della madonna Anche se di regola Mi dovrei essere aperta Una scorciatoia Con le scale Di qua fuori Perfetto Mano male Che mi è rivenuto in mente Di venire anche Di qua ragazzi Qua c'è niente No Mi era proprio sfuggito Questo appartamento Tra l'altro La porta era pure aperta C'è proprio spalancaggio C'è proprio del tipo Arriva Entra Fa un po' il cacchio Che te pare Ok Mi sa che dovrei fare il giro Dal cortile centrale Ragazzi Sperando Di non fare Di nuovo Brutti incontri Con Miss Lombry Che si divertono A svomitazzarci Addosso Nella maniera Più schifosa Possibile Di regola La scorciatoia Attraverso questa scala Spero di non Sbagliarmi Di riuscire a raggiungere Il 208 Perché probabilmente Quello che ci servirà Per poter procedere Sarà proprio lì Quindi Ho sentito Lo sbiscidio E qui a destra Eccolo là Ragazzi Scusate Però Io avrei un pochettino Di fretta Cioè Mi capite Vero Ecco il 208 Ragazzi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Adesso mettiamo la palla Ecco la palla E vai What the fuck Ma che cazzo Cioè sono venuta qua Ho fatto tutto Sto giro della miseria Ho raccolto la palla Sono tornata lì sopra A metterla Per spiare qua dentro A che pro C'è una stanza segreta È questo che mi è stata a dire C'è una stanza segreta Dentro l'armadio In quell'altra camera C'era tipo un segno Di armadio Ragazzi Ma non so se Ah Ecco lo dobbiamo spostare Da qui Perfetto Minchia Ma che razza Di malato Viva Qua dentro E chi era il poveretto O i poveretti Che stavano rinchiusi Dentro questa stanza Eccolo là E te pareva E te pareva Cosa abbiamo qua Madonna Santa Regà Ma sto posto è follia Cosa c'è scritto qua La corrente scorreva a destra A destra Quieta e cristallina La serpe zigzagò a sinistra Crudele e meschina Andai a destra anch'io Affrettatore al mio passo Nell'oscurità Simile A un abisso Quindi è Una cosa che forse mi devo ricordare Destra Sinistra Destra Una roba del genere Spero di ricordarmelo Sinceramente Destra Sinistra Destra Molto bene Ah è per la cassaforte Eh Ma destra quanto Scusami Di quanto Effettivamente Eh Regà Aspettate un attimo Fatemi vedere Se c'è qualcosa qua Uh Ah vedete Il serpente Undici a sinistra Ok però La prima diceva La corrente La corrente Eccola qua Quindi quindici a destra Undici a sinistra E il mio passo Diceva il mio passo A destra Quindi quindici destra Undici sinistra E il mio passo Dov'è? Che cosa ci sarà a me disegnato? Un uomo? Una persona? Ah eccolo Tredici Perfetto Quindi destra Sinistra Destra Undici Quindici Tredici Oddio Quindi undici a destra Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dovici Quattordici Quindici Undici a sinistra Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Ma dovevo premere x Vabbè E tredici a destra Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dolici Tredici Porca vacca Forse dovevo premere x Allora Era quindici a destra Ok Undici A sinistra Che cosa sto sbagliando Quindici a destra Era destra Vero Destra Sinistra Destra E tredici Quindi è possibile che io mi sta sbagliando Destra Sinistra Destra Quindici Undici Tredici Sette Otto Nove Dieci Undici Dove Tre Cosa minchia Sto sbagliando Non so secondo quale logica questo abbia funzionato Ragazzi infatti mi avete visto per flessa e nel silenzio Ma non si trattava di contare il numero di scatti Forse si riferiva proprio al numero undici Quindici e tredici Ok Abbiamo trovato ragazzi la prima moneta Perfetto E c'è anche una chiave qui Suppongo che aprirà questa porta Così potremo uscire da qui Mi auguro Cioè per forza Se no Come fai Perfetto Noi ce ne andiamo Non è stato un piacere Che ci manca Dove sono riuscita Tra l'altro Non ho fatto in tempo tanto a rendermi conto Uh Salve Ecco fatto Problema risolto Oh no c'è neanche un altro qua Oh 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 Ma dove sono What the fuck Cosa minchia sono tutti sti insettacci schifosi In che appartamento sono tra l'altro Nel 205 che ha anche un punto esclamativo What C'è una chiave Prendila Jamesy Uh è la chiave di quel lucchetto Della scala piccola al secondo piano Azz Azz Come che adesso mi si è aperta sta porta Scusate Ma se esco Uh qua c'è qualcosa Attenzione Cioè quanta bella roba ragazzi Un'altra bevanda salutare Questo ci piace ovviamente Qua c'è qualcosa Qua dentro Sembra di no Altri colpetti per pistola Meraviglioso Fantastico Grazie Siete stati Tutti molto gentili Uh E adesso mi posso aprire La scorciatoia Adoro Qua c'era un legio Un mister lombri Che Se n'è andato tranquillamente via Perché Ha prima sanguinato qua E poi ha deciso di Abbandonare la sua postazione Ecco Perfetto Allora Io volevo scendere adesso E tornare sinceramente Al punto di salvataggio Ragazzi Anche perché purtroppo Per oggi Ho finito il tempo a mia disposizione Per registrare Ma devo dire Che è stato un episodio Bello concentrato Insomma Abbiamo girato parecchio A quanto pare il terzo piano Comunque ragazzi Non è accessibile Però adesso Abbiamo una delle monete Che non so se inserire Già qui Effettivamente L'uomo dovrebbe essere L'ultimo Quindi dovrebbe essere L'ultima moneta In effetti Vabbè In ogni caso Già la inserisco qua Perché non si sa mai Abbiamo la chiave Per aprire Il lucchetto Di quella porta Ragazzi Di quella scala Che comunque è esterna Che molto probabilmente Porterà al terzo piano Quindi ok Potremo accedere Ugualmente al terzo piano E mi chiedo Quali orrori Ci aspetteranno Lassopra Visto che Era in ristrutturazione E sicuramente Sono tante belle cosucce Che ci aspettano lì È stato interessante Comunque vedere Questa stanza nascosta In cui qualche povero Cristo Veniva tenuto Tra l'altro Segregato Davvero tutto Molto molto interessante Allora ragazzi Ho salvato la partita Quindi ovviamente Riprenderemo da qui La prossima volta Il tutto è sempre Molto interessante Ma al contempo Ancora Estremamente criptico È misterioso Perché Non ci si capisce molto Abbiamo trovato Quest'articolo Che parlava di questo Sullivan Che ha ammazzato Questi due bambini E che Comunque era un tipo Un po' strano Stato definito Un po' pazzo Probabilmente viveva In questi In questi appartamenti qua Probabilmente era Quel tipo matto Magari Di cui parlavano Nei biglietti Nei bar Non lo so Ma è tutto Molto Ancora ragazzi Nebuloso Cioè non C'è dato ancora capire Praticamente Una stramazza Del perché siamo qui E del qua No Del perché siamo qui Lo sappiamo Di cosa sta succedendo Effettivamente qui Perché Di regola James si pensa Di essere a Silent Hill Ma non so Ormai Quanto Ragazzi Questa Silent Hill Sia reale È chiarissimo Che non lo è E che quindi C'è qualcosa Di molto Più Profondo In cui Scavare Come sempre ragazzi Aspetto i vostri pareri I vostri suggerimenti Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Un bacio A tutti ragazzi Da giocherina Ciao